Esprichami un po' la verificazione della vendemmia a mano. La vendemmia viene fatta esclusivamente a mano da persone qualificate in modo da selezionare, se c'è bisogno, tutti i grappoli che sono presenti. Viene raccolta in piccole cassette da massimo 10 kg e portata direttamente nella nostra cantina dove c'è un'ulteriore selezione dei grappoli e poi viene pigio diraspata immediatamente in modo da tenere l'uva a meno contatto possibile con l'aria, con l'ossigeno, in modo da ridurre l'ossidazione.